Musica Un cordiale saluto, buongiorno a tutti, a voi telespettatori e cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa, allora cominciamo dal santo del giorno e partiamo con il calendario, vediamo subito il santo di oggi, oggi è San Pietro Celestino V, il sole è sorto alle 5.37, tramonterà alle 20.32, il tempo, venerdì 19, questa è la velatura del mattino su tutta la regione Marche, con nuvole in aumento nel corso della serata, arriva anche la pioggia nell'entroterra, questa è la notte, sabato invece vedete ancora instabilità al mattino, soleggiato sulla costa, poi man mano che si va verso l'entroterra, questo è il pomeriggio, si va verso l'entroterra, cambia e la notte ancora, vedete, temporali sparsi ovunque, sabato notte su tutta la regione Marche, che tempo farà domenica mattina? Lo vediamo con residua, nobulosità, con instabilità nella parte centro meridionale della regione, poi il pomeriggio schiarite ampie con il ritorno del sole. Allora andiamo sui giornali, cominciamo dalla prima notizia del resto del Carlino, una notizia che avremmo dovuto darvi anche noi ieri nel telegiornale, ma purtroppo a volte capita, si prendono i buchi e questo è grosso come una casa. Liceali trovano un tesoro per strada, sono stati ridatti questi soldi alla polizia, migliaia di euro dentro questa busta e le fotografie, Tiziana Petrelli ha avuto il tempo anche di raccogliere tutte le fotografie di queste tre bravissime ragazze che davvero andrebbero premiate seduta stante per il gesto che hanno fatto nel racconto che hanno fatto alla giornalista, dice ci siamo messe a pensare a cosa avremmo dovuto fare con tutti questi soldi, non ne avevamo mai visto così tanti tutti insieme, però alla fine hanno deciso di riconsegnare il tutto alla polizia coordinata da Stefano Seretti. Addio ad Anna, era l'anima di Ciavarini invece di Spalla, ristoratrice, aveva 74 anni, la fotografia è qui sotto, la vedete? Si è spenta a 74 anni Anna Maria Diotalevi che da tanti anni, che tanti fanesi ha sfamato la sua buonissima cucina tipica, nata a Pesaro il 3 agosto del 42, ha seguito il marito Ercole Ciavarini in tutte le sue strampalate avventure. E non da ultima quella di trasferirsi in uno storico mulino di famiglia a Carignano per aprirci la locanda atipica. Condoglianze alla famiglia. L'ultimo saluto invece al professor Cuzzupoli, oggi alle 15, nella chiesa di San Giuseppe al Porto. Cuzzupoli lo ricordiamo scomparso, lui di pomeriggio, all'età di 78 anni. È morto purtroppo anche l'operaio caduto dall'impalcatura, non ce l'ha fatta Sauro Fronzi, l'operaio 45enne di San Costanzo, precipitato venerdì pomeriggio da circa 6 metri di altezza mentre si trovava su un ponteggio per eseguire lavori di tinteggiatura in un'abitazione in zona strada Mondolfo. I familiari, la moglie e la figlia di 13 anni, hanno deciso, i familiari, di donare gli organi. Il funerale si terrà domani mattina, il ferretro partirà dall'obitorio dell'ospedale regionale di Ancona, alle 9 e alle 10 prenderà il via la funzione religiosa nella chiesa di Sant'Agostino in corso Matteotti. Tutti i dettagli nell'articolo di Sandro Franceschetti. Urbino, un ragazzino cade sulla pista da cross, è grave, 17 anni di Acqualagna a soccorso in eleambulanza, c'è stato questo ricovero immediato all'ospedale di Ancona, tutto è accaduto nella pista da cross di Fermignano ieri pomeriggio, il 17 anni dicevo è stato operato, ora si trova in rianimazione. E un altro 17 anni, questa volta però è andato via di casa, ha mandato un sms al padre dicendo vado via, è successo ad Acqualagna, il ragazzo è stato avvistato ieri mattina, poi di lui non si sa più nulla, si chiama Luca, non dà notizie di sé da ormai tre giorni, aveva scritto, dicevo, al padre che martedì alle 2 lo aspettava del pomeriggio, lo aspettava alla fermata dell'autobus a Fermignano, gli ha scritto di non cercarlo perché lui andava via volontariamente. E ora l'angoscia per questa scomparsa aumenta di ora in ora, tenendo conto che un ragazzino di 17 anni, senza soldi e con pochi vestiti addosso, non possa fare e non possa stare fuori di casa da solo per troppi giorni e comunque deve poter contare sull'aiuto di qualcuno. A Pesaro invece molestie in pieno giorno, esibizionista sulla ciclabile e un agguato al parco Miralfiore. Sono denunciati due distinti episodi, sono state aperte le indagini, un caso è avvenuto l'altro ieri a Bottega, intorno a mezzogiorno, l'altro invece nell'area verde in fondo a via dell'acquedotto. Vediamo anche la prima pagina del resto del Carlino. La fotonotizia è per il crack della Comfort, i vertici sono finiti alla sbarra, giudizio per farso in bilancio e altri reati l'ex presidente, l'ex direttore generale e l'ex responsabile amministrativo, più due dipendenti di Equitalia accusati di aver continuato a concedere le rateizzazioni. Andiamo a Pesaro, dal Corriere Adriatico la notizia di un uomo di 75 anni, che è un ex dipendente dell'Enel e che dopo quattro ischemie e due cardiopatie vive in una casa di riposo a Roverella di Vismare. e ha ricevuto però una multa per eccesso di velocità, di qualche giorno fa, anzi del 10 marzo scorso. Perché? Perché andava veloce con la sua macchina, chiaramente non è lui, dice io ho 78 anni, mio marito ne ha 75, probabilmente hanno sbagliato, l'autovelox ha beccato questa targa a Massa Carrara sull'autostrada, la moglie di quest'uomo protesta, insomma nel verbale c'è scritto un furgone, io ho una vecchia alfa, ora dovrei recarmi dal giudice toscano, ma ditemi voi insomma se ho tempo da perdere la mia età con tutto quello che ci abbiamo, insomma ecco comunque speriamo si risolva in qualche modo. Andiamo avanti con il giornale, subito la pagina di Fano del Corriere Adriatico, tra creatività e folclore, l'estate più viva con la Proloquo. Presentato il calendario degli eventi e poi c'è il Giro della Menca, novità per Ponte Sasso, confermate le notte dei desideri che è diventata regionale e poi altre manifestazioni tipiche. All'aeroporto esplosa la mina vagante, il Movimento 5 Stelle critica la politica per l'incapacità di risolvere il caso, i segnali di allarme, dicono quelli dei 5 Stelle, c'erano. Il depuratore raddoppiato, il depuratore più efficienza e risparmio, l'impianto di Ponte Sasso fa fronte all'aumento di popolazione con i turisti e poi a scuola da soli pure al poderino, ma c'è chi non rispetta il divieto, vedete parcheggia, ha parcheggiato nonostante il divieto, ecco il divieto, e queste sono le automobili che hanno comunque parcheggiato nonostante c'era questa iniziativa di a scuola ci andiamo da soli, quindi bambini che in teoria dovevano trovarsi una strada libera, una via libera, in realtà non è stato così. Appello del sindaco ai genitori, sulla chiusura a ore di via Piemonte a favore degli alunni. Andiamo sulla pagina del Valle del Cesano, eccola qua. Per salvare la montagna è ora di agire insieme, a Fontevellana il progetto per invertire lo spopolamento aggravato dal terremoto. Il tartufo attira turisti gourmet, pergola ci crede anche d'estate, quattro stagioni e un giorno per amarlo, Baldelli il sindaco lo promuove insieme ai vini tipici. Da Senigallia Baywatch pronti a iniziare la stagione, in mare spuntano subito le meduse, contro la rovescia per il servizio di salvamento che partirà il primo fine settimana di giugno. Poi la storia di Samantha con suo figlio, il coraggio di vivere, la lotta contro la fibrosi cistica, tanti dolori ma anche tanta gioia. E sentite che cosa scrive questa mamma, questa mamma straordinaria, scrive che è una lezione di vita che vale per tutti, non sempre è facile. La fibrosi cistica ci ha insegnato tanto, la paura di ammalarsi, la paura degli aghi che entrano in vena, gli interventi chirurgici, il timore di gioire quando nostro figlio sta benino, bene non sta davvero mai, ma ci ha insegnato anche tante cose meravigliose, come il godere di una passeggiata, un pranzo tutti insieme, una vacanza dove portiamo una valigia piena di farmaci, un giorno di scuola, un bagno al mare, una partita di calcio e tante altre cose. A Urbino, boli di vintage e ginnastica, che weekend sotto i torrecini, mille miglia, grandi feste, mostra tema, campionate Wisp in città e c'è tutto un bel programma, giornate intense, frutto di duro lavoro, dice il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, c'è anche tanta creatività, attese 10.000 persone, tra accompagnatori e atleti, solo per i tornei sportivi. Una macchia mediterranea a fuoco, arriva l'elicottero, ore per spegnere il ruogo a Gadana, ancora ignote le cause dell'innesco. L'ultima pagina, andiamo sulla pagina di Urbino, perché c'è la notizia di cronaca di questo ragazzo, anche qui che è scappato da casa a 17 anni, Cesane, passate al setaccio, ieri mattina la denuncia del padre, poi ricerche e lunghe ore di angoscia. Un ragazzo di 17 anni, italiano, nato Urbino, residente da Qualagna, risultato scomparso da alcuni giorni. Sono ore di angoscia, di ricerche continue, con la diffusione di una falsa notizia del ritrovamento in casa di amici a Fossombrone alle 22.30. Io penso, ritengo, credo, che una fotografia, al posto di far vedere la macchina dei pompieri o dei carabinieri con la pettorina, forse, lo so che qui c'è una questione di privacy, però di fronte a un ragazzo che è scappato di casa, forse la fotografia del ragazzino messa sul giornale, rilanciata dalla televisione, forse sarebbe stato meglio. Ma io poi su queste cose mi arrendo, perché non le ho mai capite. Ci fermiamo qui. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia, il telegiornale, e speriamo di darvi davvero tutte le notizie del giorno. Arrivederci. Noi ci vediamo stasera alle 20.30